Tre società edili, la Edilorlat SRL, la Solazzo SRL e la Famar SRL sono finite sotto sequestro preventivo, mentre i quattro amministratori delegati sono stati sottoposti ad indagine per i reati di falsità in scrittura privata ed uso di atto falso. Oltre alle aziende, sono stati sequestrati anche i beni delle società, quattro veicoli da lavoro, otto automezzi privati, 35 immobili di vario genere, siti in Campi Salentina, Gallipoli, Lecce e Ruffano, sette terreni agricoli, 22 box, tre lastricarti solari e diversi rapporti bancari. Il tutto ammonterebbe ad oltre 5 milioni di euro. Questo è il risultato delle indagini, durate oltre un anno e condotte dai carabinieri di Campi Salentina, partite dopo la denuncia di una coppia di coniugi vittima di un imbroglio con cambiali false. Le indagini sono state condotte tramite il sistema bancario nazionale presso la Camera di Commercio di Lecce, in diversi studi notarili e in alcune aziende operanti tra Lecce e Potenza. La truffa ha ammietuto altre vittime, un istituto bancario e tre opifici che hanno ricevuto le cambiali. L'elemento che ha fatto insospettire i carabinieri è stata la constatazione che a beneficiare delle cambiali fosse un unico nucleo familiare, padre, figlio e nipote, titolari delle aziende ora poste sotto sequestro. Le tre società, una volta emessi i titoli cambiari falsi, li mettevano in circolazione in due modi, con lo sconto bancario oppure con le cambiali girate a favore delle aziende creditrici. Le indagini hanno avuto inizio nel 2009, quando la coppia aveva ricevuto da parte di istituti bancari dei solleciti per il pagamento di numerose cambiali, dove compariva la loro firma. Inoltre, i nomi dei due erano presenti nel registro dei protesti, presso la Camera di Commercio, atto che ha impedito di fatto l'accesso a qualsiasi forma di credito. Dopo i primi pagamenti, i due hanno denunciato tutto alla Procura della Repubblica, che nel settembre del 2009 ha delegato le indagini ai carabinieri di Campi-Salentina. A conclusione delle indagini preliminari, sono state rinvenute 135 cambiali per un valore complessivo di quasi 300.000 euro e con un termine di pagamento fissato per il 2012. Il sequestro preventivo delle aziende, tutte con sede legale a Campi-Salentina, è stato emesso dal GIP Nicola Lariccia, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, dottor Giuseppe Capoccia. Intanto, un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale garantirà la continuità aziendale e la regolare retribuzione dei 21 dipendenti stabili.